L'artista esistenzialista, buonasera da tutti, è un video esclusivo per TikTok perché dico questo? Perché probabilmente non ce la farò a mantenere questi ritmi per troppo tempo, per tanto tempo sono talmente tanti tanti video sul mio canale ma chiaramente il lavoro, altri impegni mi assorbono le tempistiche dovute, quindi con sempre stralci di tempo più piccoli da dedicare un pochettino a tutti chiaramente poi a breve, non appena andrò in ferie, c'è il manzo a iniziare, quindi avrò giusto il tempo probabilmente per YouTube quindi per TikTok sarà ridotto veramente a osso, quindi avete già comunque un certo numero di video un tocco di video uguali, potete rilassarvi, divertirti, isolazzare, fare quello che vi sarà tutto quindi vediamo quello che riuscirò a mandarvi di qui a breve, poi ripeto sicuramente per il proseguo già verso agosto sarà un pochettino più, già è complicato adesso, col tempo sarà ancora più complicato vediamo quello che riusciamo a fare, l'artista esistenzialista è mandato a tutti grazie a tutti